E questi erano gli Art Wind & Fire con settembre, settembre no? L'inizio, la nuova stagione, si inizia sempre qualcosa di nuovo ogni settembre che arriva e come tutti i lunedì o come tutti gli inizi, noi iniziamo ogni lunedì, quindi lunedì più inizio più ripartenza, è un'addizione che non può fare che Filippo Poletti come soluzione. Buongiorno Filippo! Buongiorno Fabio, eccoci qua, una stretta di mano per tutti voi, eccoci qua! Allora, abbronzato ti vedo ma già incravattato. Già incravattato, pronto per il buongiorno, qua si inizia a lavorare, anzi si rinizia a lavorare e siamo pronti a condividere come sempre tantissime belle informazioni perché noi di Milano Good Morning vogliamo solo le belle notizie. Eh, belle notizie che insomma, ricordiamo no Filippo, tu su LinkedIn, quante mattine è che dai buone notizie sul lavoro, su LinkedIn? Eh, dal 5 maggio del 2017, oltre 4 mila poste. Ecco, infatti non so fare i conti, grazie che l'hai fatto tu per me. Oltre 4 mila mattine in cui hai raccontato, no? Le cose belle del mondo del lavoro. Sì, 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 e guarda, io lo sai, sono un cronista, sono stato un cronista e quindi quando ho detto bene, posso fare una cosa su LinkedIn o LinkedIn e posso farla da editore, insomma, scelgo io il taglio da dare. E credo che, insomma, una buona notizia al giorno tolga, appunto, il cattivo umore di torno. E quindi il buon umore ce lo porti, appunto, anche qui a noi, a Good Morning Milano, grazie, insomma, noi abbiamo questa tradizione ormai che la prima puntata dell'anno la iniziamo con chi ci dà il buon lavoro. Perché, insomma, nonostante ci si diverta, nonostante sia un bellissimo lavoro, è anche questo del far la radio un lavoro e quindi iniziamo con questo buon lavoro. Allora, l'estate, dopo magari entriamo meglio nel dettaglio, però, insomma, l'estate è quella roba dove sembra che il lavoro scompaia, no? Eh no, si è lavorato tanto e, guarda, si sono accesi i riflettori su una cosa bellissima, cioè lo sport. Allora, l'abbiamo visto a Parigi con le Olimpiadi e le Paralimpiadi e l'abbiamo visto pure a Monza, qui vicino a Milano, no? Con il Gran Premio. E a Parigi sono successe tante cose belle. Quello che mi ha colpito, anzitutto, è la presenza del capo, dello Stato. Non scontata, perché è stato presente sia all'inaugurazione delle Olimpiadi, il 26 luglio, che quelle delle Paralimpiadi, insomma, alla fine di agosto. Come dire, lo sport è per tutti e io, Presidente della Repubblica, appunto, sono qua per tutti. E mi hanno colpito tante cose, ma anzitutto la pista viola. Amici, ma la pista viola su cui si è corsa è fatta da un'azienda italiana, l'azienda Mondo. Attenzione, qua siamo in Milano, in collaborazione di chi? Del Politecnico di Milano. Insomma, diciamo, anche Milano, anche l'Italia ha contribuito, no? Abbiamo visto nello stadio di Saint-Denis tanti arrivi, tante medaglie. Ebbene, io ogni volta che vedevo quel viola mi ricordavo del lavoro delle aziende italiane, del Politecnico. E poi abbiamo visto, appunto, tante medaglie per le Olimpiadi, ma soprattutto tante, tante più medaglie per le Paralimpiadi. Quindi questa è una bellissima... 71, mi sembra che la fine, no? Siamo arrivati. Record storico per l'Italia delle Paralimpiadi. Contro 40, diciamo, adesso non facciamo i bracci di ferro, però diciamo che le Paralimpiadi, insomma, portano bene agli italiani, o meglio, gli italiani sono bravi nelle Paralimpiadi. E allora, appunto, continuiamo a parlare di lavoro, continuiamo a parlare anche di Parigi, perché so che tante cose da dire, ma continuiamo a parlare di quello che è stato qui, non prima, lo sai. Insomma, siamo una radio. La musica comanda, Tedua! Avanti, avanti! Beatrice Tedua, e devo dire che ho messo questa canzone apposta, Filippo, volevo dirlo anche a te, perché da oggi comincia la sua avventura qui a Good Morning Milano, la nostra nuova producer, che è Beatrice. Quindi un saluto a Beatrice in regia, la nostra redazione, la nostra producer, e quindi ho voluto mettere una canzone per lei. Non ha fatto le Olimpiadi, non ha fatto le Paralimpiadi, ma farà questa maratona di Good Morning Milano tutte le mattine, va bene? Bene, bene. Torniamo a Parigi, perché appunto mi raccontavi che, insomma, oltre a questa storia bellissima della Mondo, appunto, che ha costruito insieme al Politecnico di Milano, dicevi, cioè gli studi del Politecnico di Milano. Sì, la collaborazione del Politecnico di Milano. La collaborazione, le piste, la famosa pista viola, bellissima comunque, che ci ha fatto sognare tutte le tre settimane di Olimpiadi e nelle due settimane delle Paralimpiadi. Eh, ci ha fatto piangere. Pensiamo, per esempio, per quanto riguarda le Olimpiadi, alle lacrime di gioia di Benedetta Pilato, no? Le Centorana, che ha detto, ho perso per un centesimo, sono arrivata a quarta, ma appunto sono felice. E questo è un grande insegnamento, no? Dobbiamo, in qualche modo, mettercela tutta, lottare nel lavoro, poi, insomma, accettare quello che viene, insomma, i risultati che vengono. Invece, sul fronte delle Paralimpiadi, beh, bellissima, scusa, sulle Olimpiadi, anche straordinaria la vittoria delle Azzurre nel volley, no? Vabbè, sì, 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 con i segreti di Velasco, no? Me li sono appuntati. Avere una strategia chiara, serve a noi sul lavoro. Due, fare squadra, se non facciamo squadra sul lavoro, non andiamo da nessuna parte. E tre, guardare sempre avanti, insegnamenti per tutti. E poi, per quanto riguarda le Paralimpiadi, quella battuta fulminante di Rigi, il romano di 25 anni, appunto... Che te devo dire? Sì, che te devo dire... Tre record del mondo, uno attaccato all'altro. Tre record del mondo e che con grande semplicità, appunto, ha portato così il calore degli italiani a Parigi. Dicendo anche una cosa bellissima, quando l'intervistatrice, la collega della RAI, gli ha chiesto, insomma, l'emozione che ha provato più grande, lui ha detto, bene, l'emozione più grande è stata il mio vicino di casa che mi ha portato la bandiera. Come dire, nella vita contano, appunto, le relazioni. Torniamo qui sul lavoro, al centro del lavoro ci sono, appunto, le persone. Le persone che, appunto, spesso dei giornali si leggono, magari invece che vengono dimenticate spesso del mondo del lavoro, spesso solo brutte notizie, ma invece tu trovi anche, invece, delle belle notizie dove le persone non vengono dimenticate, ma anzi, no? Ma sì, dobbiamo, insomma, dobbiamo ricordarci che abbiamo tutti bisogno di essere, come dire, di essere accompagnati e di unire le forze assieme alle altre persone. Siamo degli esseri, a me non piace parlare degli animali, siamo degli esseri, appunto, sociali, quindi dobbiamo unire le forze con altri. Poi, sempre per sport, bellissima la vittoria qui, appunto, a Milano della Formula 1 con l'Eclair, che è bellissima, andate a rileggere, se non l'avete letta, l'intervista a Benedetto Vigna, l'ha messo toregato di Ferrara, che, appunto, ha detto due cose bellissime. La prima cosa, so di non sapere, posso imparare da tutti. E poi, aggiunto, una cosa, per ritornare a quello che dicevamo prima, l'azienda è come una cipolla. Al centro ci sono le persone. Lui raccontava a un collega, appunto, a un collega giornalista, diceva, bene, quando io entro in ufficio, in azienda, qualcuno, qualche operaio mi chiede possiamo prendere un caffè insieme? E lui dice, ben volentieri. Insomma, in sostanza, ad averne, i leader devono essere in grado di parlare con tutti e interlocuare con tutti. E allora, continuiamo con la musica, ma preparati due novità che sono arrivate quest'estate nel mondo del lavoro. Volentieri. E lo so, lo so, tra me e l'ufficio programmazione a questa mattina siamo stati un po' prevedibili, ma è settembre, non potevamo che ascoltare la PFM con impressioni di settembre. Bentornati, eccoci qui, allora, in diretta ancora su Crystal Radio, Good Morning Milano, 7.35 minuti con Filippo Poletti. Le due novità per il lavoro che ti hanno colpito quest'estate? Allora, la prima, cari amici di Good Morning Milano, è il tempo per sé di Generali. Allora, Generali ha presentato il suo modello che si chiama Red Working, ha un acronimo che sta per Relevant, Empowering e Dynamic, e all'interno c'è uno spazio per sé. Cioè, i dipendenti settimanalmente hanno due ore senza riunioni. Perché, lo sappiamo bene, in questo mondo digitale siamo costantemente on, e quindi WhatsApp, riunioni, insomma, diciamo, è diventato, come dire, un vero e proprio grandissimo impegno lavorare. Si parla addirittura di debito digitale, insomma, abbiamo un grande debito digitale. E poi, in generale, in generale ci sono tante altre cose. La conferma dello Smart Working a tre giorni alle settimane. Non torniamo indietro, caro Fabio, sullo Smart Working. Ne hanno parlato anche a Cernobbio. Io sai che sono un fautore dello Smart Working alternato a dei momenti di incontro fisico. E poi, la percentuale, ecco, una cosa interessante in generale, la possibilità di legare il premio di produzione al commuting, al trasporto ecosostenibile. Cioè, vai in ufficio con la bicicletta, piuttosto che sono mezzi pubblici, bene, a quel punto meriti un premio, o meglio, nel conteggio del premio c'è anche questo. E poi, un'altra novità, me ne chiedevi due, quello del pisolino. Tu lo fai il pomeriggio? No, mi sentirai in colpa, ti dico la verità. E invece non ti devi sentirne in colpa, perché 13 minuti di pisolino al giorno fanno bene alla produttività. Chi l'ha detto? L'ha detto questo neurologo, si chiama Oliviero Bruni della Sapienza, in cui appunto ha spiegato che il famoso NEP, il pisolino, aumenta la produttività sul lavoro, penso un po' del 2-3%. E rafforza anche le capacità di attenzione. Insomma, facciamoci questo bel pisolino. Quindi, 13 minuti al giorno devo farmi di pisolino. Sì, 13 minuti al giorno, e poi ti dici come farlo. Ecco, io un anno fa avevo pubblicato su LinkedIn la notizia di questa cabina giapponese, si chiama Giraffe NEP. Penso un po', una cabina in cui tu puoi fare il pisolino in piedi. In piedi, come cavalli? Sì, come i cavalli. Con dei tiranti, ti tiene su e ha una cabina alta fino a 2,5 metri, larga 1,2, con appunto insonorizzata, nel senso che dall'esterno non senti i rumori. E poi appunto con un sistema di flusso d'aria che riduce il particolato, l'anidride carbonica. Quindi respiri anche aria pulita. Aria pulita. In Giappone si sta rifondendo, chissà che appunto... Beh sì, loro parlano che parlavano delle capsule hotel, quindi ce l'hanno questa mania. In realtà ho visto delle piccole capsule, sì, dei box, anche al Merlata Bloom, qui a Milano, dove tu puoi, come sono un piccolo quanto costa, hai 20 minuti di tempo per star dentro a riposarti sulla poltrona massaggiante. Quindi vabbè, meglio forse il pisolino da 13 minuti con i tiranti però, eh. Coldplay feels like I'm falling in love. E insomma, l'estate appunto, sì, è passata, ci ha portato novità, ma anche altre idee, no? Per altri spunti sul lavoro, altre possibilità, altre conquiste anche, no? Eh sì, è stata un'estate interessante. La notizia d'agosto è stata l'acquisizione da parte di Bendy Spoon, la società milanese che si occupa appunto di sviluppo, di WeTransfer. Quanti di voi, quanti di noi hanno usato questo sistema per appunto spedire i documenti? Diciamo, lo usiamo tutti lunedì quando tu ci mandi il buon lavoro, ad esempio, no? Lo usiamo tutti lunedì e insomma è veramente un sistema. Adesso, ogni volta che trasferiremo un file, bene, sapremo che c'è dietro anche un'azienda italiana. Un unicorno che ha anche Evernote, Streamyard, Streamyard è una piattaforma per fare le dirette interessanti. Insomma, Milano e con il CEO Luca Ferrari si sta appunto allargando. E poi, e poi, tra le altre... Nelle acquisizioni ho rimasto a Mars che si ha compratto Pringles, ho rimasto quella. Sai che nel mondo del food mi attira sempre tanto. Poi cos'altro... E poi l'altra bella notizia, questa di luglio, è stata la nomina di Anna Gervasoni a retrice della Liuc, l'università. Dico, questa è stata una notizia perché, pensate un po', è la sesta donna retrice di un'università in Lombardia. Abbiamo appunto al Politecnico, la professoressa Asciutto, la Bicocca, la Cattolica, la Statale, la Nisubria, ora alla Liuc. Insomma, si parla spesso della disparità, della presenza di uomini rispetto alle donne in posizioni apicali. Bene, l'università Lombarda dà il bell'esempio. Quindi, bene, bene, buon lavoro alla professoressa Gervasoni. Sei rettrici in Lombardia, non è poco. Sì, ricordo bene, era il novembre del 22, la prima fu la professoressa Donatella Asciutto al Politecnico, poi appunto Giovanna Iannantuoni alla Bicocca, eccetera, eccetera. Quindi dal 22, dal novembre 22 al luglio del 24, insomma, ci sono stati dei progressi, dei grandi passi in avanti. Benvengano. E allora, siamo ancora tecnicamente in estate, però insomma, volge al termine e soprattutto non lo si capisce guardando fuori dalla finestra, che siamo ancora in estate, quello non lo si capisce più. Però la temperatura è ancora mica. Sì, soprattutto qua in studio, devo dire la verità, dove studiamo ancora. Ma come possiamo, che è questa la domanda, che era la prima domanda da farti, ma la teniamo verso il finale. Come prepararsi per iniziare appunto questo autunno lavorativo? Allora, devi sapere che io ieri ho fatto un salto a Piazza del Duomo, dove c'era questo bellissimo evento, il ballo in bianco con Roberto Bolle. E mi ha colpito una frase che ha detto a questi quasi duemila ballerini, ballerine. Ha detto, non smettete mai di sognare, ha detto Roberto Bolle della Scala. Bene, non smettiamo mai di sognare. Lavoriamo, lavoriamo, ma sempre cercando qualcosa in più. E soprattutto non mortificando le nostre aspirazioni, i nostri sogni. Insomma, cerchiamo, 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 cerchiamo. E non smettiamo appunto mai di sognare. Questo è l'insegnamento di Bolle di ieri al ballo in bianco. Ballo in bianco, tantissime. Sono quelle iniziative comunque che sono veramente qualcosa di spettacolare per Milano. Poi sai che io in realtà sono contrario a tutte le manifestazioni di Piazza del Duomo. Cioè, credo che Piazza del Duomo non andrebbe data per concerti, per balli in piazza, niente. Perché Piazza del Duomo è di tutti i milanesi. Invece tu vai lì, sono tre giorni che non si potrebbe aggirare. Quindi sono in realtà polemico da quel punto di vista. Dall'alto dico che bello quando però la città risponde così bene a queste iniziative. Quello sì, è molto interessante. Non smettere di sognare, no? Questo era... Come si fa a non smettere di sognare, Filippo? Tu sei uno che non ha mai smesso. Ma non smettere di sognare vuol dire sempre mettercela tutta. Mettercela tutta, ingegneristicamente si dice che la vita è fatta di vincoli. Tutti noi abbiamo dei vincoli. Ma all'interno di questi vincoli non dobbiamo mai mortificare quelle che sono le aspirazioni, i desideri, le passioni. Vedi, ieri guardando questi ragazzi e ascoltando, c'era un valse di Chopin. Il numero 2, opera 69. Bellissimo, andate ad ascoltarlo. Bene, pensavo a quanto noi possiamo ribaltare un paradigma. Si parla sempre del bilanciamento vita-lavoro. Io propongo un altro bilanciamento. Io propongo il bilanciamento tra, diciamo, le passioni e il lavoro. Non mettiamo a tacere le nostre passioni. Mai, mai, mai. E ricordiamoci che dobbiamo farlo, anche perché viviamo in un mondo complesso. E la complessità ci impone di imparare a unire i pontini. Come? Anche girovagando. Ecco, prendiamoci del tempo durante la giornata a fare i flanora, a fare i girovaghi tra una competenza e l'altra, tra una materia e l'altra. Insomma, diciamo, cerchiamo di andare sempre un po' oltre gli steccati. Girovaghiamo. Questa, secondo me, è una parola da tenere sul tavolino. Mi hai alzato la schiacciata, girovaghiamo. Voglio sapere, dopo la prossima canzone, dove hai girovagato quest'estate. Perché anche lì non è solo vacanza, o meglio, è vacanza, ma ci sono anche delle belle storie che ti porti a casa, delle belle realtà da Zanzi. Da Zanzi, sì. Isola fantastica della Tanzania. Io, sapete, amo follemente quella terra. Per anni l'ho frequentata. Quindi, insomma, poi ne parleremo adesso, subito dopo, subito dopo. Safari in Gemma, buon viaggio a tutti. Era Cercon Believe, alle 7 e 52 minuti. Crystal Radio, Good Morning Milano. 331-7853-555 è il nostro numero di WhatsApp. Filippo Poletti, che ci parlava di non smettere mai di girovagare. Sia con la mente, mi viene da dire, con le mani nel provare le esperienze, ma in realtà anche fisicamente, magari facendo dei viaggi come quello che hai fatto quest'estate. Dove sei andato? Allora, sono andato a Zanzi. Ecco, so italiano che fa l'All Inclusive tutto il giorno a bere, mangiare e zogovegliare. No, a conoscere una realtà straordinaria. A conoscere, pensate un po' questo fratello, questo fratello italiano, si chiama Marco Pogliese. 62 anni, torinese. Ha passato una vita a lavorare nel turismo. Dopo 30 anni, per lavoro era stato mandato, pensate a Zanzi, però a vedere una struttura si innamora di questo arcipelago, perché in realtà sono più isole. E lì fonda questa prima scuola e unica in Tanzania per bambini disabili. La scuola si chiama la Donino. E io gli ho chiesto, Marco, perché Donino? Perché era il soprannome di mia moglie. Pensate un po' a una storia tragica anche qui. Sua moglie si ammala di un tumore, muore e gli dice, tu devi tornare in Africa e appunto portare avanti quello che noi abbiamo immaginato. una struttura su 5 ettari, riservata a 85 ragazzi. Io sono stato nelle classi. Guardate gli abbracci di questi bambini. Alcuni sono sordi, alcuni muti, alcuni sono down, alcuni hanno dei problemi psicologici, eccetera. Insomma, è un affetto travolgente. E Valtour sostiene questa... C'è una bella sinergia per tenere poi in piedi tutto questo, no? Valtour sostiene questa bella scuola. È anche una fondazione che consiede in Italia. Pensa per ogni turista che usufruisce delle strutture, delle loro strutture, di questa struttura vicina appunto alla scuola, Valtour dà 3 euro. E poi c'è il Genoa. Genoa Cloud che ha dato le magliette. BB Bell, un'azienda di Torino. Insomma, chi può contribuire. Dice, vedi, Marco mi ha detto, gli ho detto, ma come vedi il dopo domani? Lui mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Mi ha detto, vedi Filippo, qui vige il dopo di noi. Cioè, dice, io ho 62 anni, ho sognato. Lui mi ha detto, ho fatto due sogni. In uno, un bambino mi diceva che sarei vissuto fino a 81 anni, in un altro fino a 83. Lei dice, quindi non mi manca molto, ecco, tutto il tempo che mi resta, voglio far sì che questa struttura possa resistere nel tempo e dare un futuro ai bambini. Come? Istruendoli, perché alcuni potranno andare a lavorare, alcuni, se vorranno, potranno vivere, vivere, appunto, in queste. E dietro, dietro una cosa bellissima, ve la racconto, ve la svelo. Ho detto, ma cosa c'è dietro? Pensa, c'è una coltivazione, un ettero coltivato a pomodorini, cosa? San Marzano e Pacchino. Perché dice, il pomodoro oggi non si può importare. Allora noi abbiamo portato, e l'ho visto, proprio i semi di Pacchino e San Marzano. E li facciamo lì. Allora, questo è Filippo Poletti. Filippo, io ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi questa mattina. Come sempre, grazie. Grazie a te. E questa volta lo dico io a te. Buon lavoro. Buon lavoro. Allora, tutti lunedì, come sempre, tre belle notizie. E visto che abbiamo parlato di Zanzibar, ha una matata, che vuol dire, insomma, stai sereno. Senza pensieri. Senza pensieri. Senza pensieri. Grazie mille, Filippo. Grazie mille. A presto. A voi. Un abbraccio. Seguitelo su LinkedIn. Filippo Poletti. Forza, good morning. Grazie mille.